online c'è un articolo su tiziano il veronese il tintoretto quindi siamo arrivati al 500 nel bene nel male nel senso che alcuni autori sono stati tralasciati citati solo marginalmente come sapete inside the staircase si occupa principalmente di pittura quindi si è scelto di dedicarsi agli autori che realizzano opere pittoriche piuttosto che scultore e alcune cose sono state effettivamente tralasciate spero in futuro di poterle recuperare di poter recuperare magari ecco i buchi o gli autori secondari attraverso una rubrica che sia monografica rispetto ad un autore per il momento comunque mi sembra che il lavoro fatto sul 600 sia apprezzabile sia abbastanza buono e che permetta quindi di studiare 600 eventualmente di approfondirlo ulteriormente io consiglio sempre di visitare anche la pagina facebook dove si possono trovare contenuti aggiuntivi per quanto riguarda il 500 appunto il nuovo post è in più parti e quindi anche febbraio sarà occupato dagli stessi autori del secondo 500 ed è stato insomma ho scelto di dedicarmi principalmente al mito quindi alla pittura del mito del mito classico può essere apprezzabile per il fatto che ho visto tra l'altro ecco il ministero dei beni culturali ultimamente sta facendo la campagna su il mito nell'arte quindi la cosa è coincisa in maniera fruttuosa per il 2018 così volendo dare una panoramica uno sguardo di grosso taglio probabilmente arriveremo a fine 2018 con al gotico gli autori sono numerosi anche per il 500 anzi forse sono ancora più impregnanti rispetto a quelli del 600 si parlerà sicuramente di michelangelo raffaello leonardo da vinci arriveremo a fra filippo lippi passando naturalmente per il botticelli le cose da vedere sono moltissime ed è il 500 un secolo meraviglioso che io audoro sopra gli altri per il quanto riguarda ancora il lavoro fatto nel 2017 l'anno appena passato ci sono anche listati degli autori che mi è dispiaciuto di più dover saltare come per esempio mi dispiace di non aver parlato di della croix per quanto riguarda il periodo romantico perciò insomma sto pensando di di organizzare qualcosa di nuovo per il 2018 intanto grazie per l'attenzione e arrivederci